Alla Vibac di Termoli è attivata la procedura di licenziamento collettivo per 90 dipendenti su un totale di 139 unità. L'industria produce nastro adesivo per uso generale per automotive nel nucleo industriale di Termoli, dove ha sede uno dei quattro stabilimenti dell'azienda. Con lettera datata 15 aprile, il legale rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione ha comunicato la inderogabile necessità di attivare la procedura di riduzione di personale. Nella lettera l'azienda sottolinea come la situazione del mercato, tra costi aumentati, diminuzione della domanda e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, sia drasticamente peggiorata, in modo tale da rendere indifferibile il licenziamento collettivo nello stabilimento di Termoli. Massimiliano Recinella della Femca CISL annuncia iniziative in campo nazionale e locale. Abbiamo già dato mandato alle segreterie nazionali di richiedere l'esame congiunto. Questa è una situazione che inevitabilmente si porterà dietro altri siti produttivi del gruppo. Nella giornata di domani abbiamo convocato il coordinamento nazionale della VBAC di CGL CISL e Nella giornata di dopodomani saremo in regione a manifestare le forti preoccupazioni di tutti quanti i lavoratori e della perdita occupazionale di un numero di occupati molto importante per una regione come il Molise e per una zona industriale come Termoli. Anche la lentezza della regione nell'intervenire è stata tirata in ballo dai sindacati, il malcontento è ai massimi livelli. Questa avvertenza è una sconfitta per tutti. Il nostro giudizio è che la VBAC sta dimostrando ancora una volta il totale disinteresse per questo territorio e per i lavoratori che in tutti questi anni hanno fatto l'azienda grande.